Un'operazione al cuore o al cervello, il trapianto del fegato, la rimozione di un rene, l'impianto di una protesi al ginocchio, sono tutti interventi chirurgici che senza anestesia non sarebbero possibili a causa dei dolori atroci che il paziente proverebbe durante l'operazione. In passato, invece, l'anestesia veniva praticata con metodi a dir poco rudimentali, dal comprimere le carotidi del paziente, per fargli perdere i sensi, agli impacchi di acqua fredda per rallentare la circolazione sanguigna, dall'utilizzo della mandragola, una pianta altamente tossica con proprietà sedative, alla spongia somnifera, una spugna marina essiccata al sole e immersa per ore in un cocktail micidiale di oppio, giusquiamo, foglie di beladonna e altre erbe. L'anestesia generale o totale è una procedura medica utilizzata soprattutto prima di interventi lunghi e invasivi, in quanto permettono al paziente di non avvertire alcun tipo di dolore durante l'operazione. Si tratta a tutti gli effetti di uno stato di coma farmacologicamente indotto, temporaneo e reversibile, in cui il paziente perde coscienza in seguito alla somministrazione di alcuni farmaci. Se invece vuoi sapere cosa succede al corpo quando si è in coma, ti lascio qua in alto il video che ho realizzato. Esistono diversi tipi di anestesia e durante la visita anestesiologica, che precede l'intervento chirurgico, viene scelta quella più indicata per il paziente. L'anestesista deciderà sulla base del tipo di operazioni che il paziente deve fare e sulla sua storia clinica, informandosi su malattie, allergie, farmaci assunti, interventi precedenti e altri dati utili a ottenere un quadro completo del suo stato di salute. In questo video andremo a vedere come funziona l'anestesia generale. L'anestesia generale può essere suddivisa in tre fasi, induzione, mantenimento e risveglio. Prima dell'intervento viene posizionato nella vena del braccio o nel dorso della mano un ago cannula, dispositivo che funziona da catetere venoso periferico che permette di somministrare farmaci tranquillanti e ansiolitici. A questo punto comincia la fase di induzione, in cui l'anestetico può essere somministrato per via endovenosa o inalatoria. Nel primo caso vengono iniettati nelle vene, tramite l'ago cannula, degli anestetici generali, come il propofol, la chetamina e i barbiturici ad azioni ultra breve, come il tiopentale. Nel secondo caso invece, tramite un'appogita maschera appoggiata sul viso del paziente, vengono somministrati dei farmaci sotto forma di gas. Si parla di anestesia gassosa ed è resa possibile da una speciale macchina che in maniera automatica regola la quantità di gas somministrata in base ai respiri del paziente. Il gas anestetico più utilizzato per l'anestesia generale è il protossido di azoto, che viene miscelato con l'ossigeno e con altri vapori allogenati. Altri gas anestetici sono il sevoflurano, l'isoflurano e il desflurano. Entro il primo minuto della somministrazione dell'anestetico, il paziente perderà coscienza, così come i movimenti oculari e i riflessi laringei. Le pupille si dilatano e la muscolatura intercostale diaframmatica si paralizza, arrestando così la respirazione volontaria. Si procede quindi all'intubazione endotracheale, che consiste nel far passare un tubo nelle vie aeree del paziente che è collegato a un ventilatore meccanico, un macchinario che gli fornisce costantemente ossigeno e contemporaneamente elimina i gas di scarto, mimando i muscoli respiratori intercostali durante gli atti respiratori. Il pompaggio dell'aria nelle vie respiratorie può avvenire anche attraverso un'apposita maschera appoggiata sul volto del paziente. La seconda fase dell'anestesia generale prevede la fase di mantenimento, ossia quell'intervallo di tempo in cui il paziente subisce l'intervento chirurgico e durante il quale, oltre a non essere cosciente, non deve percepire gli stimoli dolorosi. Il mantenimento dell'anestesia generale avviene mediante la somministrazione continua di ipnoinduttori, farmaci che come dice il nome stesso esercitano un'azione sedativa ipnotica. Alcuni di questi sono le benzodiazepine e barbiturici. Analgesici, farmaci capaci di alleviare il dolore ma che non intervengono sulle cause che l'hanno provocato. Per la gestione dei dolori di elevata intensità vengono usati farmaci di terzo livello come gli opioidi forti, ad esempio la morfina, il metadone, il fentanil o lo sicodone. Miorilassanti, farmaci capaci di far rilassare la muscolatura volontaria e involontaria del corpo. Alcuni di questi sono il pancuronio, il vecuronio e la succinicolina. Per tutta la durata dell'intervento chirurgico l'anestesista monitorerà i parametri vitali del paziente come la respirazione, la pressione e il battito cardiaco, oltre che assicurarsi che il paziente continui a ricevere la dose di anestetico necessaria per mantenere lo stato di incoscienza. E se il paziente si risvegliasse durante l'operazione, cosa succederebbe? Lo vedremo in un prossimo video che appena disponibile lo troverai cliccando qua in alto. Il meccanismo attraverso cui l'anestesia generale elimina la percezione del dolore non è ancora del tutto chiaro. I farmaci anestetici somministrati agiscono bloccando il passaggio dell'impulso nervoso dalla periferia dell'organismo al cervello e viceversa. Viene interrotta la trasmissione dei segnali elettrici tra i neuroni, in particolare bloccando la capacità del neurone post-sinaptico di ricevere il messaggio, ossia di legarsi al neurotrasmettitore rilasciato dal neurone presinaptico. In questo modo il cervello perde coscienza e la capacità di ricordare cos'è successo durante l'intervento chirurgico, ma soprattutto non è in grado di elaborare il dolore. Nel caso dell'anestesia gassosa invece, i gas anestetici, in seguito all'inspirazione, arrivano ai polmoni e agli alveoli, a livello dei quali si solubilizza nel sangue e raggiunge tramite il circolo ematico il sistema nervoso centrale dove esplica la sua azione. La terza e ultima fase dell'anestesia generale è quella del risveglio, che avviene interrompendo gradualmente la somministrazione dei farmaci anestetici. Man mano che il metabolismo del paziente li smaltisce, inizierà a risvegliarsi. Quando poi inizierà a respirare autonomamente, verrà rimosso il tubo dalla trachea e staccato dalla macchina che lo aiutava a respirare. Una volta risvegliato il paziente, rimane sotto osservazione medica per qualche ora. È in questa fase che si manifestano gli effetti collaterali dell'anestesia, come nausea, vomito, sonnolenza, riflessi rallentati e mal di testa, oltre che al dolore dovuto all'intervento chirurgico che viene trattato con farmaci antidolorifici. Grazie per la visione!